Nazareno, grazie innanzitutto di averci aperto le porte di questa magnifica galleria e cogliamo l'occasione per parlare del tuo ultimo lavoro, non una scultura, non un'opera d'arte, ma un libro. Io sono io che ringrazio voi, questa non è una grande galleria, questo è un mio rifugio dove vengo ogni tanto a meditare, dove vengo a dialogare con queste mie opere, se opere saranno, non lo so, saranno gli altri a dirlo. Non è una fatica scrivere un libro, anche perché, ripeto, non credo che sia un libro, o se lo è, è un libro corto o un bignami lungo, non so, vedete voi. Questo è soltanto un messaggio che Nazareno Rocchetti vuole lasciare ai giovani, perché Nazareno Rocchetti, meditando, guardandosi allo specchio, dice, senza offendere a nessuno ci mancherebbe, questo è il mio pensiero, tengo sempre a dirlo, cosa lasciamo a questi giovani? Dove sono quei valori iscindibili che i nostri genitori ci hanno insegnato, che i nostri nonni? Io non sono stato così bravo e credo anche gli altri miei coetanei non sono stati così bravi a lasciare questa eredità ai nostri figli, ai nostri nipoti in questo caso. E allora che devo fare, praticamente? Io non ho la pacchetta magica come non ce l'ha nessuno, però ci tengo che i ragazzi sappiano che io sono il primo a fare mia colpa, mia massima colpa, ho sbagliato e se posso aiutarvi in questi anni che mi sono rimasti di vita sarò a vostro fianco, cioè questo è il messaggio che io voglio dare ai giovani. Certamente non sono contento anche di chi ci governa, non sono pienamente soddisfatto di quella che è la nostra scuola pubblica, l'istruzione, non sono d'accordo anche, in parte, ripeto il mio pensiero, con Madre Chiesa, che tanto praticamente ci bacchetta e poi andiamo a vedere che anche loro, praticamente, essendo esseri umani come noi, sbagliano come noi. Ecco, non vuole essere praticamente niente, una lezione di vita per nessuno. Nazareno Rocchetti ci tiene a raccontare la sua esperienza e porta queste testimonianze. Se poi, come dice il mio amico Neri Marco Re, ma chi leggerà questo libro, Nazareno? Una volta che l'ha letto i tuoi parenti e i tuoi amici, chi lo leggerà? E io guardo Neri, che lui mi conosce molto bene, e gli dico, Neri, se riuscirò a salvare soltanto uno di questi giovani, per me sarà già un grande successo. Il libro, come potete vedere, è una domanda che il piccolo Nazareno nel 1951 fa a suo babbo. Babbo, ma cosa c'è al di là del mare? E io non credo che sia, per quei tempi, una domanda così scontata. E lui mi guarda, poverino, con gli occhi sgrinati, e dice, ma che vuoi che sappia io che c'è? Dillo a tua madre che ha studiato, io ho fatto soltanto la prima elementare, e la mamma che ha fatto la quarta elementare. Mamma, che c'è al di là del mare? Che c'è, cocco, al di là del mare c'è il mare. Ma come, mamma, sempre il mare? Sì, sempre il mare. Il mare è grande. E questo bambino, praticamente, che non era proprio convinto di questa risposta, incomincia, ecco, a scrivere, a scrivere praticamente con la vita, giorno dopo giorno, per vedere e scoprire se realmente questo mare finisse. E Nazareno Rocchietti, nel tempo e negli anni, ha visto che finisce il mare, incominciano altre terre, cominciano altri mari. E della vita. Questa è la vita di ognuno di noi. Nazareno, la prefazione è stata fatta dal tuo amico Neri Marco Re e la presentazione del libro al Tolentino, il 12 giugno, al Politeama. Allora io invito a questo punto tutte le donne e gli uomini di buona volontà, se volessero, il giorno 12 a Tolentino, al Teatro Politeama, un'altra opera magnifica del nostro benefattore, lo dico senza parafrasare, che si chiama Franco Moschini, perché, vedete, di ricchi ce ne stanno tanti, ce ne sono tanti nella nostra terra, però di sensibili e di persone che amano il bello, come fa Franco Moschini, ce ne sono pochi. Allora lo ringrazio pubblicamente. Siete tutti invitati alle ore 18.30 del 12 giugno. Ci sarà un breve intermezzo musicale del maestro Marco Santini. La serata sarà presentata da Alben Crescini, un altro professionista e amico, l'editore è Giaconi e il curatore è Luca Patrassi. Ci sarà anche Nazareno Rocchietti. Neri? Non lo so. Neri è invitato. Ecco, Nazareno, leggici qualche passo più significativo di questo libro. È troppo tardi, lo ignoro. So di sicuro, almeno per quello che mi riguarda, che voglio rimediare, almeno in parte, ai miei tanti errori nei loro confronti. Non sarà facile. Nessuno ha la bacchetta magica per mettere a posto tutte queste brutture che vediamo ogni giorno, che i giornali ci propongono conseguenza quotidiana, e ancora più sull'elettrodomestico più dannoso degli ultimi 50 anni, la televisione. Abbiamo cambiato quello che era il più bel momento di aggregazione della famiglia. A tavola, con il bollettino di guerra, dei vari TG, dalle varie trasmissioni, stupri, omicidi, violenze, figli che uccidono i genitori, uomini che sfereggono con l'acido le donne. Poi, per qualche secondo, per dire alla pubblicità, la dentiera ti balla? Oppure hai delle piccole perdite? No, signori miei, non ci siamo. Abbiamo fallito, ho fallito, sono un troglodita di campagna, ma queste cose mi sconvolgono. Questo non è progresso, questa non è informazione. Se vuoi vedere un programma culturale, ti devi mettere la sveglia alle tre di notte. Forse sono io, che guardando un film diverso, in una sala diversa, ma tutto questo non aiuta i giovani. Ed allora, miei cari ragazzi, oltre a chiedere scusa, posso dirvi soltanto che io sono qui, sono a vostro fianco, per cercare di rimediare agli sbagli che abbiamo fatto.